Asmr Questa tipologia di video L'ho vista già Altrove In particolare io personalmente Ho visto Mi sono appassionata Perché trovo veramente molto molto brava Questa ragazza I video di Mary Lovely Asmr Guardo i suoi video da tanto tempo E questa tipologia in particolare L'ho portata un sacco di volte Poi so che l'hanno fatta tantissime Altre persone Ma io insomma Mi ci sono appassionata grazie a lei Che appunto Mi rilassa tantissimo Mi piace molto Quindi Ho scoperto così diciamo Questa tipologia La trovo molto rilassante E ho deciso di provare A riproporla insomma Oggi ho qui con me Un po' Dei miei prodotti labbra In particolare i miei gloss Perciò Iniziamo subito Il primo Da cui vorrei partire È questo qui Allo Shine, 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 shine Die essence Iniziamo 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 Grazie a tutti. Ok, questo è il primo. È trasparente con un po' di glitter e tecnicamente dovrebbe avere un effetto, diciamo, rimpolpante. In realtà, fino a un certo punto, cioè meno rispetto ad altri che fanno la stessa cosa, ma non l'ho comprato per questo. L'ho comprato in quanto gloss, trasparente e fa il suo mestiere, insomma. E niente, io lo trovo bello come risultato, anche perché costa davvero poco. Quindi direi che come risultato è ottimo, onestamente. E dà una sensazione un po' di pizzichio sulle labbra, come tutti i prodotti di questa categoria. In realtà, questa che dovrebbe un po' rimpolpare in qualche modo. Questo appunto non è un dolore o qualcosa di troppo forte, però un po' si sente. E poi è molto pastoso. Molto tenso proprio addosso, si nota. Quindi è un po' più pesante magari rispetto ad altri gloss che sembrano un po' più sottili. Sì, questo appunto è un po' più tenso, più pastoso. Lo tolgo. Il secondo gloss che voglio mostrarvi è questo qui. Sempre della stessa collana, della stessa linea, insomma. Sempre shine, shine, shine. Sempre essence, però questo è colorato perché è il numero 22. Pages and Cream. Anche questo ha tipo dei glitter dorati all'interno. Che ovviamente adesso non è che si vedono i singoli glitter, però è così. Non è andato. Non è un po' più vinden, non è andato. Non è il numero 3. E'and Vicente. Sì, 굉장히 l'arrho deloiso. Non è un po' più vано. Non è continuo. Grazie a tutti Ok Questo qui è il secondo È carino Sì, come consistenza ovviamente è come l'altro Essendo della stessa linea insomma Mi comincia un po' meno Perché non lo so Mi sembra troppo aranciato In estate non mi causa particolari scompensi Perché sono un po' più scura Però come penso sia evidente anche dal video Io ho una pelle Insomma abbastanza chiara E non lo so Mi sembra un po' troppo sparato Questo colore Non lo so Mi convince poco Non so se è una mia impressione Non so se è una mia impressione o cosa Però secondo me non mi sta benissimo Perché è appunto un pelino Troppo aranciato Poi appunto in estate si può usare molto di più Infatti io l'ho comprato in estate Ed essendo un po' più scura Secondo me mi stava anche meglio Però appunto adesso Non mi convince molto Ok adesso inizierò a diventare tutta rossa Perché io sono abbastanza sensibile di pelle Quindi diventerò tutta rossa Ogni volta che mi strucco succede Non è niente di strano I prossimi Che voglio mostrare Sono Questi tre Questi tre Sono tutti della stessa collana Sono tutti della stessa marca Erano in un set proprio E sono della marca Rude Li ho presi su Pink Panda E allora Il primo Da cui parto È questo semplice Trasparente Metto un altro po' Ok Questo è il risultato Con questo qui Trasparente Semplice Trasparente Un po' più leggero Di quello dell'Essence Come consistenza Ma abbastanza simile Forse è un po' meno riflettente Ecco Però Comunque il risultato è Abbastanza simile Perché sono entrambi Semplicemente Trasparenti Tipo con dei glitter Delle cose luminose All'interno Ecco Poi Il prossimo È sempre che succoe È sempre che succoe Della Della stessa La stessa La stessa Ok Non faccio caso nemmeno a metterli troppo bene Perché comunque Ovviamente Registrando un video Non è che poi devo uscirci O li devo tenere per tanto tempo Quindi anche se non sono messi benissimo Li darò addosso 2 minuti Bene Questo qui è Questo più rosato Io l'ho trovato molto utile Perché non amo i rossetti matt Rosa Ma invece il gloss non mi crea particolari scompensi I motivi quindi insomma Quando avevo bisogno di qualcosa di rosato Ho scelto di usare questo Più e più volte E mi ci sono trovata Abbastanza bene insomma Cioè come colore Non lo so Mi piace Anche se appunto Non amo i rosa sulle labbra Però Tra varie cose che ho provato Questa è in assoluto quella che mi ha convinto di più Fino al momento Di rosato appunto Poi alla fine Quelli che sto mostrando in questo video Sono un po' Diciamo I miei preferiti Gli altri li ho Più o meno tolti di mezzo Fatti sparire Quindi insomma Sono Cioè Di tutti Ti faccio un po' Elogi e complimenti Ma è semplicemente perché sono quelli che mi piacciono di più Ok Il prossimo è quello sempre della stessa linea Però appunto Gramello Tipo Sì Questo In assoluto Di questa linea Di questi Di questi tre È il mio preferito Onestamente Mi piace Veramente tanto Almeno Su di me Perché comunque io ho colori abbastanza caldi Più o meno Perché comunque Con i miei occhi E i miei colori di capelli Secondo me sta Abbastanza Abbastanza Bene Allora 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 Ok, allora, questo è il colore, non so se con questa luce abbastanza intensa si capisce bene il risultato, l'effetto, allora onestamente a me appunto piace perché, cioè secondo me sta bene proprio per il colore, la tipologia di colore più marroncina, allo stesso tempo aranciata, secondo me sta bene su di me, poi appunto sembra leggermente più chiaro, leggermente più rosato, mi sto rendendo conto con questa luce che è sempre così, ma non lo è, è sì, proprio marroncino, aranciato, chiaro e risultato estremamente naturale, qualcuno potrebbe pensare tipo che sia un l'os trasparente praticamente, in realtà le mie labbra per natura hanno un colore molto molto più chiaro, con la mia pelle non c'è da stupirsi, e quindi io questo lo apprezzo particolarmente, credo sia il mio preferito, per il momento almeno tre gloss colorati, sicuramente è il mio preferito, senza dubbio, adesso me ne rimangono altri due, da far vedere, il penultimo è questo qui, che è abbastanza conosciuto comunque in genere, non so se è propriamente, non so se è tecnicamente un gloss, perché è tipo, cioè è della Too Faced, e serve tipo come rimpolpante per le labbra, quindi non so se è tecnicamente un gloss, però l'effetto che dà è quello di un gloss più o meno, soltanto che le labbra sembrano un po' più rosate e un po' più gonfie, quindi io lo utilizzo in ogni caso tipo un gloss, come utilizzo il risultato insomma, quindi adesso ve lo mostro. e via via nel tempo, per i primi minuti comunque, il bruciore si fa sempre più intenso sulle labbra, è un pizzico fastidioso, non insostenibile o altro, semplicemente un po' fastidioso, perché pizzicano, penso sia abbastanza oggettivo, e semplicemente alla fine appunto sono un po' più gonfie e un po' più rose, ok? Ho fatto passare qualche minuto, tipo due minuti, non di più, e questo è il risultato, è in realtà appunto niente di particolarmente sconvolgente, però comunque non è male, cioè carino, non è un risultato particolarmente duraturo, adesso è messo male, quindi qui tipo è messo malissimo e perciò il risultato è un po' strano, però, devo dire, non è male appunto, cioè in generale, abbastanza carino. E per quanto sia appunto trasparente, le rende più rose, quindi non sembra, ma è semplicemente questo effetto che le fa un po' prosciacchiare, diciamo. A sto punto, le mie labbra iniziano ad essere di un altro colore, anche da stroccate, però vabbè, non fa niente. L'ultimo che voglio provare nel video di oggi è questo qui, forse meno conosciuto dell'altro, perché è di un brand meno conosciuto rispetto a Too Faced, ed è il Well Lip Plumber di We Make Up. Allora, io ho qualcosa da dire su questo qui, perché praticamente questo, quando l'ho provato la prima volta, ho pensato fosse praticamente il miglior lip gloss che io avessi mai provato. In realtà poi non è propriamente così, perché l'effetto che dà sul momento è veramente una cosa, cioè a me, su di me, piace tantissimo. Il problema, diciamo, è che poi l'effetto dura molto molto poco. Ora, mostrandolo, vi spiegherò meglio. Dà un effetto proprio lucido, bellissimo. Io, onestamente ancora, non l'ho trovato un effetto così in altri gloss, perché è proprio super, super, super specchiato. È bellissimo, lucidissimo, specchiatissimo, senza nemmeno un glitter. È questo che non trovo in altri gloss. Cioè non riesco a trovare, almeno fino ad adesso non sono riuscita a trovarne altri che fossero tanto lucidi e specchiati, ma senza nemmeno un glitter all'interno. Questo, infatti, mi piace tantissimo per questo motivo. Qual è il fatto che questo effetto dura, appunto, poco? La mia esperienza dura un po' troppo poco l'effetto specchiato. Per il resto, proprio appena applicato, io lo trovo bellissimo. Perché, appunto, a differenza di tutti gli altri, si distingue perché non ha glitter. Poi, se conoscete altri gloss così trasparenti, lucidi, super specchiati, ma senza glitter, per favore, fatemelo sapere. Ora io sono tutta rossa qui, perché nel frattempo, tutto attorno, perché nel frattempo mi sono grattata, comunque, toccata la zona delle labbra. Io direi che vi lascio, spero che questo video vi abbia rilassato, che vi abbia intrattenuto, che vi sia piaciuto. Grazie, grazie veramente tanto per avermi fatto compagnia in questo video. E io direi che ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!